bella a tutti ragazzi con lorenzo di cipuntaggi ci troviamo qui sul terzo episodio di the high ground over game allora devo dirvi che per questo tempo siccome c'è stata la finale del super bowl che è un torneo americano in appunto in america c'è questa nuova modalità che dopo proveremo alla fine insomma che bisogna indovinare se hanno più ricerche i giocatori di alcune squadre oppure proprio le squadre del super bowl e io prima ve l'ho provato un culo incredibile perché non ne conosco nemmeno uno quindi capito voi allora iniziamo subito con quella versione normale requiem for a dream oppure juventus allora ok cioè la foto di juventus si può capirlo c'è qualche anno che ho dato via però sono sicuro che ne ha comunque di più punto 5 milioni più soffi sempre david becca mai ma dai becca è famosissimo il più assolutamente più famoso della juventus gioco un ex giocatore vedete si super volto un ex giocatore più ricercato cioè meno ricercato della squadra però comunque molto famoso in inghilterra quindi dire dovrebbe essere più famoso della juventus e invece no ok pokemon porca vacca 9 milioni 140 mila ricerche ma la malesia può accompagnare solo a sto punto pokemon giapponesi vincono ma questo è difficile per me ne ha meno ma comunque appunto la va di più o non riusciamo a battere uno oggi non riusciamo a farmi più di uno in fila effettivamente adesso che ci penso doveva essere ricercato perché tu su internet vai a cercare i biglietti per l'aereo quindi sono stupido io vabbè uregano catrina contro il code fendos ma un po perché mettono c'entrano con un uregano catrina ed ecco mancuna stavolta oggi proprio il giornate sfigata ok skrillex contro per me di più skrillex appunto perché comunque non possono rappresurare martin terking di più perché ricercato dagli studenti appunto no record della giornata vietnambor meno sì ok cerchiamo di battere card altra volta questo meno appunto non niente nessuno il tempo in questo anche se ne frega nei testi comunque appunto di poco però dai se vedi siamo se decide proprio ma un po di pochissimo grazie di più ok linea riusci meno ma non so lei che cosa ho schiacciato perché la freccia si è mossa ok ok churchill contro blu per me è di più blu pari mamma di culo toy story 3 di più poi è possibile una cosa del genere se il gioventi più tanto di più tanto di più come è possibile un film stra vecchio so più ricerche e non ci posso pensi più che un calciatore famoso ma poi ci sono ci viene essendo questo gioco in inglese e essendo a guerra un giocatore che gioca in inghilterra dovrebbe avere molte ricerche degli inglesi invece no ok amici castelli anche più sempre che questo per il super bowl credo in più anni non voglio fare di merda che l'ho già fatto abbastanza che dei un milio al giro per la colombia da sempre meno di un milio al sicuro 3.600 persone più di 3.600 appena perché effettivamente e questo non vorrei neanche cercarlo però di più ogni torco per me a meno di cintomila ci rendiamoci conto ok blade runner contro botto per me di più questa qua cioè non è bellissimo ma infatti in cesso non lo vuole vedere nessuno non sembra che arrivati a 10 renditevi conto neanche 10 esce di me di su un sito di più mamma mia non di tantissimo questo problema minuto il grande barriaco la linea di più dai meno 100 800.000 campo cercati l'unico stadio ricercato al mondo proprio questo mi deve capitare che stile è verso quelli e medicano che non so ricercati per me ok di cari e un virus contro acquistare per me di più e cercato 4 milioni di ricerche ma stiamo scherzando ai sensi di più di sicuro appunto my shape meno oggi la giornata sfortunata anche di molto ok allora george best contro david stavolta stavolta mettiamo di più mamma mia fortuna città tantissimo ronaldo 6 milioni cavolo ti credo pluto no allora sarà anche cercato solo per il cane di topolino però thailandia di più mi sembra un migliore appunto migliore e mezzo briefs meno ok water polo di più perché l'altra volta mi aveva fregato era un segno del destino chiamato più non aveva accettato vuol dire che era meno mamma mia ok e rubis che in teoria noi youtuber contro prince prince di più perché di fatto 15 milioni 600 milioni non so neanche chi è la cima al può solo accompagnare anche se famosissimo appunto un milione ma un po solo accompagnare lo stesso elvis presley per me di più mamma che culo la seconda guerra mondiale la seconda guerra mondiale è ricercata non c'è nessuno della storia devo pensare a questo non c'è nessuno di più della storia cioè non è giusto ma almeno 10 di fila riusciamo a farle già in questo meno ok 5.453 angry birds tantissimo perché è uscito il film oltre ai videogiochi nfl tantissimo di più questo appunto grazie a meno assolutamente come assolutamente tanto questo tantissimo un cammino vai giudo di più adesso proprio sparate adesso arrivare a 10 all'altro cos'era questo era di più sì di fortuna volevo mettere meno ma questa qua sarà una marca conosciuta appunto tutte americane questo meno bill gates tanto questo sì abbiamo superato i 10 ai cc squadra è un film più riuscito quindi tanto appunto mamma mia personal system meno perché la gente con così tante brazzo sono difficili da trovare infatti poca gente che la certo windows tanto perché famoso e se lo conosco io vuol dire che è famoso 14 qui e questo aveva 300 milioni cerche non gliene frega niente nessuno appunto prada di più perché prada sei tu le batte di merda game of thrones perca vacca fortuna che io non lo guardo capo che ci può solo accompagnare mamma di poco giordani nemmeno possono accompagnare cos'è che kfc c'è in lunga mamma mia qua si fa sempre mamma e poi vedi il tizio con il 33 mila ricerche betty book avrà più di 33 mila ok 256 mila tantissimo deve averne tetris punto gioco conosciuto tiger woods posso solo accompagnare a sto punto esatto scopi mamma se questo ne ho meno a ok no perché tiger woods ce l'ho già sentito però non l'ho mai visto scopi dove dice quello l'ho visto pure io quindi chi non ha visto scopi per me ricercato sto perché tutti vorrebbero come un miglior di ricerche super stop possono accompagnare ma dai non il tantissimo sic che almeno siamo quasi 30 porca vacca abbiamo portato il record e non di poco ha capito per me di più riporto sì 30 ma un record il cogan posso possono accompagnare ok di questo meno cichinando ok poi ci vengono fuori certe immagini che tu non conosci mamma di pochissimo questi sono proprio di prima dei milioni adesso tantissimo porca vacca corta poi che roba ha vinto il campionato inglese sarà il mio mio di ricerche ok tra milioni johnson and johnson mi ricordo che aveva pochissime l'altra volta siamo pure sbagliato mad max di più che non lo conosco però scommetto che è un film lento lento meno ok springer spagnolo di più 39 vi rendete conto 39 c'è il 99 per cento delle persone che hanno giocato non sono non sono arrivati a te prendetevi conto e dopo sto 39 che ho pure registrato cose che non mi accadrà mai più nei video facciamo un super ball così ignorante che non sappiamo niente perché siamo ignoranti in materia appunto non so voi ma io sì john helway contro il disco allora questo qua mi ispira di più uno questo mi ispira ancora di più ma vaffanculo non mi ispira no riproviamo col super ball perché 39 non riusciremo mai a farlo cioè ne bastava uno effettivamente adesso ci penso florida gators con una squadra da marino per me florida gators più cercato appunto non è che stiamo girando a cifre chissà quanto grande 50 ricerche solo c'ho più ricerche io a sto punto ma vedete come fa a finire su un gioco di milioni di ricerche un personaggio con solo 50 ricerche questa è una cosa impossibile questo sicuro che ne ha di più perché è una squadra e non frega nessuno c'era adesso quel zero facciamo zero cioè vi rendete conto che non risciate fanno questo comunque meno perché non neanche uno non riusciamo a farne ti credo che nessuno guarda super ball giochi a sto gioco ti passa la voglia di giocare i miei capelli ovviamente sempre messi benissimo questo ne avrà un po di più no metti di più alleluia 1 questo trofeo più visualizzazione di ricerche 140 ricerche 50 ricerche prima come può essere sta con donale ne avrà poi poldoress io prima come sono riuscito a farne 7 cioè voi non mi credete ma io le avevo anche fatte madden 17 contro acland al meda county collines per piacere stadio porta un po di fumava a cagare che cavolo 110 ma perché le mettono così basso io me ne faccio un'altra normale per concludere facciamo l'ultima normale basta super bolle perché la natale contro santorini è bella però c'è comunque meno di ricerche di madale appunto jerusalemme meno che l'ho già fatta e più o meno mi ricordo pubertà meno ok con nell'entrile ti prego cane bravo car ecco un carri ricercato perché non voglio noi insieme a 800 900 mi 450 mila c'è il portiere più uno dei portieri più forti al mondo democrazia di più solitamente questo di più di meno perché non lo conosco questo pochissimo perché chi è che va a cercare su internet di elettricisti johnsina paparapam e questo lo conosco perché non sembra un brutto gioco devo provare a cercarlo foro nord e ne avrà tanto poi ok ragazzi possiamo dire che il video finisce qui i miei capelli che sempre praticamente come vogliono loro vi salutano io vi dico di commentare iscrivetevi lasciate un like siamo riusciti abbiamo concluso appunto con il 10 noi ci vediamo prossimo per la raga iscrivetevi al canale